Ciao a tutti, vorrei parlarvi oggi in questo video dello struccante bifasico, latte tonico bifasico di Biofficina Toscana. Questo prodotto esiste da anni e anni, ma non l'avevo mai provato, un po' perché leggere latte tonico mi aveva un po' ingannata e poi essendo un prodotto comunque che ha un prezzo medio alto, io l'ho trovato in un negozio eco bio, un negozio fisico o 12 o 14 euro, ora non ricordo di preciso, però vi metto qui il prezzo di vendita di ecco verde, perché quello è il sito da cui faccio più riferimento, che è comunque il prezzo medio di vendita del prodotto. Allora, parliamo di un flacone da 200 ml, ovviamente certificato ICEA, cruelty free, vegan, pao di 6 mesi. È un punto bifasico, quindi va agitato e allora io non amo spendere mai troppi soldi per gli struccanti perché comunque si tratta di prodotti risciacqua eccetera eccetera. Ho gli occhi molto molto delicati, quindi tutte voi ragazze che usate le acque micellari per struccarvi e non avete problemi agli occhi, io vi invidio tanto ragazzi, perché io non posso. Io ho provato diverse volte un prodotto unico per tutto il viso, ma niente da fare. Ho bisogno del bifasico per gli occhi e magari un'acqua micellare per il viso. Questo sarebbe anche per viso, però mi sembra male sprecarlo, anche perché comunque, vi ripeto, ha un certo costo e non voglio sprecarlo subito per tutto il viso. Detto questo, strucca qualunque cosa. Ora, voi sapete, se mi seguite anche nei video di makeup, che uso sia prodotti naturali che prodotti tradizionali e quindi un po' più ostici da rimuovere. Ecco, questo rimuove tutto, ma proprio tutto, tutto, tutto. Io lo amo, ve lo dico, lo amo. Ne ho consumato poco ad oggi, sono arrivata più o meno qui, perché ce l'ho da poco, ecco. Però io lo amo, lo amo proprio. Quindi rimuove tutto, dopodiché lascia il contorno occhi morbido, idratato. Cioè, quando io uso questo la sera, difficilmente vado a mettere il contorno occhi, un po' per pigrizia, un po' per quello che vogliamo, però mi lascia il contorno occhi talmente idratato che non sento la necessità di andare a fare l'idratazione al contorno occhi. Questo per dirvi quanto questo prodotto sia fantastico. ripeto, so che esiste da anni, ma io non l'avevo mai, mai calcolato. Poi andavo in cerca di uno struccante bifasico, naturale. Non volevo ricomprare né quello dell'Eurospin, che ha ovviamente un incipessimo, né altri da supermercato. Volevo proprio un prodotto naturale. Quindi sono entrata in questo negozio e la ragazza aveva questo. O lo struccante mi sembra di color caramello oleoso, però ho detto proviamo questo, perché mi ispira. E ho fatto bene, quindi sono contenta. Perciò, se il prezzo vi sta bene e potete spendere quello che costa per uno struccante bifasico, io ve lo consiglio. L'inci è ottimo. Ovviamente a fine video ve lo mostro, sì, perché è qui dietro, però sarà un po' complicato. Comunque a fine video ve lo mostro, in una foto magari. E niente, io ovviamente se avete domande scrivetemi pure, sarò felice di rispondervi. Con questo è tutto, ciao e alla prossima! Grazie a tutti!